Muoversi. Infomobilità in Campania. Su tutto l'asse in entrambe le direzioni in tratti e saltuari. Sulla statale 268 del Vesuvio, sino all'11 ottobre, ridotta la careggiata tra Poggio Marino, San Giuseppe e Vesuviano Sud e Palma Campania verso Napoli. Sempre sulla strada statale 268 del Vesuvio, attivo invece uno scambio di careggiata tra Palma Campania ed Ottaviano, zona industriale, in direzione Napoli. A Salerno, oggi in occasione della Notte Bianca, sino alle 5 di domattina, è previsto un temporaneo dispositivo di traffico. I dettagli al sito www.muoversi.regione.campania.it Dalla redazione Muoversi, Valeria Baldanza